Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Vediamo oggi la mia Top 11 per la giornata numero 4 al Fantacalcio. Prima di partire con i nomi, che cos'è la Top 11, se non conosci il format, è una formazione di consigliati. È l'unica formazione di consigliati che vado a fare, quindi solo 11 nomi. Ovviamente cerco di evitare le banalità, vi andrò a spiegare il motivo delle mie scelte e andremo a schierare i giocatori in un 3-4-3. Cercando magari, se possibile, di evitare i grandi top di reparto che hanno anche partite magari facili e che sono nomi scontati e banali da consigliare. Lo sappiamo benissimo tutti che ad esempio uno Z-Man contro il Genoa va schierato al 100%. Prima di partire ti invito a supportare questo video con un bel like, ma ti ricordo anche che il like alla Top 11 allontana la sfortuna dal tuo Fantacalcio. Per cui, se vuoi solo fortuna e zero sfiga, devi sicuramente lasciare il like. Ti invito anche ad iscriverti al canale se ancora non sei iscritto, perché solo se sei iscritto non ti perdi alcun contenuto a tema Fantacalcio che troverai su questo canale. Parlo solo di Fanta, quindi se ti interessa il gioco, l'argomento, la tematica, iscriviti al canale. In descrizione trovi tutti i link per supportarmi. Come abbonamento al canale ci sono tanti vantaggi, tra cui ad esempio risposta garantita ai tuoi dubbi di formazione nelle mie live. Link di Fantalab che tra l'altro utilizzo anche per creare la Top 11, andare a selezionare i giocatori per quanto mi riguarda Fantalab è il tool per l'asta perfetta, ma è veramente molto molto utile anche per lo schieramento della formazione, perché possiamo guardare tantissime statistiche, pillole interessanti che piacciono a noi nerd del Fantacalcio. Se vuoi partecipare al Fantacampionato Gazzetta ho un mio referral link, ti lascio il link in descrizione. Detto questo ragazzi, procediamo e partiamo con la nostra Top 11 per la quarta giornata di campionato. In porta, vado forte, vado con un big che è una partita tosta, parliamo di Maegnan. Gioca contro l'Inter, a San Siro, casa Inter, quindi col pubblico contro. In questo caso la partita è importantissima perché le due squadre si trovano già al vertice della classifica. Entrambe a nove punti, entrambi a punteggio pieno, nessuno può sbagliare. Vado a schierare lui per lanciare anche un segnale. È un giocatore che sta bene, è un big, è un giocatore importante. Non fatevi prendere dal panico, schieriamolo comunque perché è un giocatore estremamente affidabile. Quindi Maegnan, fiducia a lui, attenzione alle varie alternative che potete avere in rosa perché possono trarvi in inganno. Magari avete abbinato un Maegnan con Falcone, Falcone che comunque non ha nemmeno una partita facile. O un Maegnan con consigli, sappiamo bene che il Sassuolo non ha una difesa di ferro. Magari ci facciamo ingannare dalla partita. Magic Mike è affidabile anche contro l'Inter. Quindi mi raccomando ragazzi, per la scelta importa. Per quanto riguarda i tre difensori che vado a schierare, mi affida tre difensori centrali per questo turno. Il primo indica che fino ad ora non ha trovato spazio dal primo minuto nella Roma. Una Roma che ha avuto diversi problemi difensivi e quindi cercherà di ripararli con il nuovo acquisto che è arrivato, fortemente voluto anche da José Mourinho, proprio per giocare come titolare finalmente. Sarà lanciato post pausa nazionali. Per me è un giocatore che possiamo schierare anche perché potrebbe trovare la quadra difensiva per la Roma e uscirne subito fuori con una bella prestazione. Un buon voto al fantacalcio. Il secondo nome è Federico Baschirotto che affronta il Monza, si gioca a Monza. Il Lecce più volte ha vinto negli ultimi anni contro il Monza per cui questo storico mi fa sicuramente ben sperare. Partiamo anche dicendo che lì davanti il Monza in questo momento non ha un attacco che fa paura, non ha un attacco che segna tantissimo. Dovrebbe giocare anche Lorenzo Colombo, suo ex compagno. Si presume dovrebbe conoscerlo anche abbastanza bene. Quindi il buon Federico Baschirotto se la può cavare egregiamente con il suo solito 6,5 valido per il modificatore di difesa. Chiudiamo la difesa con Bremer. Un Bremer che ha un altro big match perché affronta la Lazio però c'è da dire che con lui in campo la Juve è riuscita a neutralizzare Ciro e Immobile negli ultimi occasioni. Quindi credo che questo esito potrebbe ripetersi. Io do fiducia a Bremer che tra l'altro è anche un top a livello di difensori centrali per il fantacalcio. A livello di Terzini sicuramente ci sarà qualcosa di meglio. Però a livello di centrali è secondo per quanto mi riguarda a pochi. In questo momento ha un hype basso. Qualcuno sta pensando anche di lasciarlo fuori. E per qualcuno addirittura è anche il meno consigliato fra i tre difensori della Juventus. Comprendendo anche magari quel Gatti che ha il ballottaggio con Alexandro. Quindi per tanti viene Danilo, Gatti e infine Bremer. Però ragazzi Bremer scelta affidabile via azzardo anche. Potenzialmente può essere il nome migliore della difesa della Juventus per questo turno. Andiamo adesso sulla linea dei centrocampisti. Partiamo con Jankto del Cagliari. Il Cagliari è ancora a secco di vittorie. Lui è un ex. Cagliari che ha segnato meno di tutti in questo campionato. Un solo gol. Lui è un ex. Gli ex non vanno mai sottovalutati. Affronta l'Udinese. Gioca come esterno il centrocampo in un 4-4-2. Potrebbe farsi vedere in maniera interessante in zona bonus. Quindi ve lo vado a segnalare. Il secondo nome è proprio della stessa partita. Ed è Sandy Lovric che in questo momento è il faro dell'Udinese. Insieme a Samardy ci aspettando che Pereira entri anche al 100% della condizione. Tira tanto. Oltre due tiri in media partita. Riesce anche a centrare la porta. Non ha portato bonus fino ad ora. Chissà che è il bonus. Quindi non arrivi proprio in questa quarta giornata di campionato. Come terzo nome un altro ex. Questa è la giornata degli ex a centrocampo. Perché vi parlo di Akan Cialanoglu. Sappiamo bene. La partita l'abbiamo presentata. È il derby di Milano. Affronta il Milan. Lui è un ex. Un ex anche col dente avvelenato. Perché quando vede Rossoneri sfodera tra l'altro. Sempre prestazioni molto molto buone. Nonostante giochi da mediano. La scorsa ha tirato un rigore. Quindi potrebbe essere lui il rigorista dell'Inter. Attenzione perché contro il Milan l'ha già fatto in carriera. E sicuramente credo non lascerà un rigore a Lautaro. Qualora ce ne sia. Quindi Akan Cialanoglu consigliato anche per tutto quel fattore ex che non è da sottovalutare. Chiudiamo il centrocampo con Riccardo Orsolini. La sua è l'ultima partita di questo turno che si giocherà lunedì sera contro il Verona. Si gioca a Verona. Orsolini che fino ad ora ha giocato relativamente poco perché comunque è stato infortunato. Quindi ha saltato parte della preparazione. Però adesso è fresco. È pronto a giocare. Era stato anche poi convocato dalla Nazionale Italiana dopo l'infortunio di Politano. Non ha trovato spazio. Non ha trovato minutaggio. Comunque quindi sarà un giocatore fresco che ha avuto modo di continuare la propria preparazione. Di mettere minuti nelle gambe. L'aspetto nuovamente da titolare. Ha sbagliato un rigore all'ultima. Però io ragazzi non lo boccio. Facciamo attenzione perché affronta quella che è relativamente la fascia un po' più debole di El Verona. Con Doig che difensivamente non è perfetto. E a livello poi di difensore centrale dovrebbe affrontare Magnani. E quindi anche per questo motivo preferisco un po' Orsolini a un Ferguson per questa giornata a parità di ruolo. Proprio perché Ferguson dovrà inserirsi più centralmente più su Yen rispetto a Orsolini. Che avrà un avversario meno bravo da quel punto di vista. Meno bravo a marcare rispetto a Yen che è Magnani. Passiamo adesso all'attacco. Un attacco con un tridente. Partiamo con il primo nome che è il buon Laurientè del Sassuolo. Un Laurientè che affronta il Frosinone. Si gioca a Frosinone. Fino ad ora ha portato un solo assist nella terza giornata di campionato. Zero bonus. Non si è acceso tantissimo. Però sta entrando in condizione. Sta entrando al meglio. Quindi ragazzi in questa quarta giornata lui non è nemmeno uno dei giocatori che viene convocato dalle nazionali. Quindi ha potuto lavorare con calma. Trovare la miglior forma fisica. Può far bene. Il secondo nome per l'attacco è un big. Ed è big. Rom Romelu Lukaku. Un Lukaku che in nazionale ha fatto molto molto bene. Doppietta in due minuti contro l'Estonia. Sta bene. Sembra essere anche in forma. Sembra essere in palla. Nella Roma contro l'Empoli. Una Roma che ancora non ha vinto. Alla sua prima da titolare potrebbe da subito magari far bene. Schieriamo ragazzi Lukaku. Senza troppi problemi. Puntiamoci. L'ultimo nome è Tony Sanabria. Un Tony Sanabria che sta venendo svincolato. Denigrato scambiato con una valutazione bassissima perché tutti dicono che con Duvan Zapata lui non troverà più spazio. Però ragazzi si parla infatti già di un possibile tandem Sanabria-Zapata e chissà che non possa essere proprio Tommy a sfangarla con un bel gol. Il Toro tra l'altro non ha nemmeno una partita super difficile. Affronta la Salernitana che a livello di difensori qualche pecca ce l'ha. Bene ragazzi per questo video è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione. Ricordo a tutti di lasciare un bel like per supportare questo video. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo contenuto a tema fantacalcio. Ciao a tutti.